Il Partito Democratico passa all'incasso su due fronti dopo il risultato conseguito nell'elezione del Consiglio Provinciale di Avellino. Il primo è quello di Palazzo Caracciolo con l'indicazione più o meno ultimativa al presidente Buonopane alla vicepresidenza del rieletto consigliere provinciale Luigi D'Angelis, consigliere e già sindaco di Caerano. L'altro fronte è quello del Comune di Avellino. Il PD rompe indugi e annuncia come imminente la ufficializzazione della candidatura a sindaco del 61enne penalista vellinese Benedetto De Maio sul quale si erano comunque registrate convergenze all'interno del cosiddetto campo largo. È previsto un ulteriore definitivo passaggio all'interno della coalizione di centrosinistra prima della conferenza stampa di presentazione. In ogni caso, anche se dovessero emergere contrasti dell'ultima ora su De Maio, il penalista resterebbe il candidato che il Partito Democratico metterà in campo contro l'uscente Gianluca Festa.